Vi farò un effettivo differente rispetto a quello che avete appena ascoltato ma strettamente intrecciato a quello di Gianluca. Cioè, parto dalla considerazione che, non solo il titolo della mia relazione, ma uno dei fili che attraverso tutti gli interventi che sono stati presentati in questo ciclo, in questo corso di aggiornamento, hanno un tema che li lega l'uno o l'altro, quindi in treccia, al di là del titolo, che è appunto quello della violenza, che oggi, forse più degli altri incontri, è emerso e che si pone come un grosso loro, perché negli ultimi anni la stereografia, non solo quella a cui diceva riferimento Gianluca, ma in realtà anche il contesto internazionale sempre di più ha aperto una finestra che ragiona a capire dagli anni 90 su un ritorno in grande stile ed è ovviamente anche il clima e lo spirito di questo aggiornato, di quanto sta chiedendo, il contesto internazionale della guerra, delle violenze connessa alla guerra, ma delle violenze etniche, delle guerre civili Allora, in qualche maniera ci si pone un problema, la violenza è qualcosa che si configura come un problema storico, la violenza è qualcosa che ha a che fare, come molto spesso si dice così, vernicando un senso comune con la parte oscura dell'umano che improvvisamente in determinate condizioni si può scatenare e, dette in altri termini, da storici, visto che non siamo analisti sociali e tantomeno ci occupiamo di psicologia sociale, come si può studiare storicamente la violenza, come la violenza che vi è stata richiamata e descritta analiticamente anche nell'intervento di Gianluca può, in una qualche maniera, essere collocata all'interno dello storico. Quindi, io, quello che vi proporrò sarà arrivando naturalmente, non pensate che sia, perlomeno io non credo di essere andato fuori tema rispetto a quanto mi è stato assegnato, semplicemente la prendo un po' alla lontana. Io partirei dicendo che l'intensità della violenza, quindi la violenza politica, la violenza raziale, la violenza di guerra è, in un dato periodo, la spia di nodi e di questioni storiche che sono risolte. È la traccia che viene in qualche maniera lasciata da passaggi di regime, è soprattutto la rappresentazione e la manifestazione dello svilettamento di, da un ordine della società all'un nuovo ordine della società. Ricordo che, a questo riguardo, un signore che risponde al nome di Walter Benjamin, nell'ottava filosofia, tesi di filosofia della storia, scriveva, lo stupore perché le cose che viviamo sono ancora, e ancora lo metteva tra virgolette, possibili nel XX secolo, è tutt'altro che filosofico. Non è all'inizio di nessuna conoscenza, se non di quella che l'idea di storia da cui proviene non sta più in piedi. Come sapete, le tesi della storia venivano scritte da Benjamin nel momento forse più drammatico dell'espansione del fascismo nell'Europa, e proprio in quel momento Benjamin ricordava, cito un'altra riga e mezzo, che la tradizione degli oppressi ci insegna che lo stato di emergenza in cui viviamo è la regola. Dobbiamo aggiungere a un concetto di storia che corrisponde a questo fatto. Come tradurre quello che Benjamin consegnava con questa ottana tesi di filosofia della storia? Beh, io la tradurrei in questo senso, la tradurrei e la leggerei oggi come un invito a non assumere la violenza della prima metà del XX secolo come l'equivalente di uno stato di emergenza, come appunto lui lo definisce, cioè di un fenomeno eccezionale e unico. Direi che piuttosto Benjamin ci invitava a considerare tutto questo come un invito programmatico a produrre una stereografia, uno sguardo sul passato che fosse in grado di assumere la violenza come costitutiva dei processi di mutamento storico, un elemento chiave del processo di trasformazione e di mutamento delle società nel tempo, quindi un elemento chiave delle teorie sulla cultura, sui processi di mutazione collettiva, ma anche dei meccanismi di funzionamento della società contemporanea. Cioè, in una parola, questa tesi di Benjamin, nel modo di vedere, ci invita a ricondurre la violenza alla storia dei rapporti di potere e soprattutto a come nel tempo questi rapporti di potere vengono a mutare, quindi dentro una visione della storia intesa come storia di rapporti di forza. E direi che in questo senso noi potremmo anche interpretare e assumere la famosa affermazione di Mao Zedong quando diceva che il potere nasce dalla canna del fucile, che in una qualche maniera rimandava esattamente alla questione dei rapporti di potere, ma se vogliamo potremmo risalire ancora prima alla visione di Marx della violenza come elevatrice della storia, nel senso che l'emergenza della nuova società era preceduto e non causato da delle esplosioni di violenza, così come i dolori del parto precedono e non causano la nascita. In questa prospettiva lo Stato era, o poteva essere, secondo Marx, uno strumento della violenza nelle mani delle classi dominanti, ma il potere delle classi dominanti non si basava sulla violenza, ma si basava sul rapporto di dominio. Allora, forse con queste citazioni ci possiamo avvicinare, a mio modo di vedere, a dire una cosa, a individuare una cornice fondamentale nel nostro discorso sulla violenza, sulla questione della violenza. Cioè che noi non possiamo assumere la violenza, a mio modo di vedere come un problema in se stesso, se vogliamo capire, studiare, amantichemente le forme, ma soprattutto le ragioni, le cause della violenza, dobbiamo assumerla nel suo rapporto con il potere. E come si configura questo rapporto? Nella tradizione cristiana c'è un rapporto costitutivo tra potere e violenza. Se noi andiamo a recuperare Sant'Agostino delle Civitate Dei, noi abbiamo un testo che guarda cosa? Guarda a Roma e propone la storia romana come un laboratorio di violenza. Perché la storia di Roma da cosa nasce? Nasce dal fratricidio, nasce da Romolo che uccideremo. Nasce in una qualche maniera dalla parrama di potere e di dominio e da quel momento in poi questo sarà il luogo di ogni forma di violenza. Una violenza che è strategica, perché Roma fa una politica di potenza. Pensate a quello che scriveva il conclauso inizio all'inizio dell'Ottocento quando ricordava che la guerra, nella sua natura intima, nella sua essenza di annichilimento, dell'amversario, dell'industria del nemico era stata praticata dalla storia dei romani e poi da Napoleone Bonaparte. I romani tornavano appunto ad essere messi al centro di questo. La violenza di Roma era una violenza strumentale legata alla struttura economico-sociale di quella società. Era anche, e guardate bene che non stiamo parlando di una cosa tanto lontana dalla violenza fascista del regime dell'autorità del XX secolo, una violenza fina a se stessa. Perché era una violenza che aveva come obiettivo l'esibizione della crudeltà, pensate ai giochi gladiatori, ma pensate anche alla schiavitù come simbolo di un male sociale. Si diventava schiavi per violenza e sotto la violenza si viveva da schiavi. Dunque, concludendo a Sant'Agostino, la violenza è il peccato originale della politica e del diritto e questo è un elemento su cui solitamente io credo si ragiona poco, ma in realtà questi sono i fondamenti della filosofia cristiana della storia. Al contrario, naturalmente vi prego di scusarmi se sto facendo una carellata sintetica, quindi brutalizzando il piacere di tutti questi autori, ma mi serve per cercare appunto di individuare e di rendere più complesso lo sguardo storico intorno alla violenza. Al contrario di questa posizione possiamo dire che c'è una tradizione di radismo politico che parte sostanzialmente, potremmo dire, con Ops, per santificare, che arriva fino a Weber, fino a Karchunit, in cui c'è uno sforzo di rimuovere la violenza dalla civiltà e di relegare l'idea che la violenza è l'espressione di uno stato di natura, il famoso hominium di Lufus di Ost, cioè in qualche maniera la violenza relegata all'interno della barbarie e viceversa da Ops poi di ricondurre nell'albero del diritto il monopolio della violenza, in qualche maniera quindi assumendo la violenza nel suo rapporto con il potere ancora una volta, ma rendendo legittima la violenza proprio attraverso il monopolio di essa che era recitato come stato. Dopo la guerra dei Trentani e la pace di Westfalia sia intesa come esercizio del diritto di fare la guerra, quindi dell'ordine internazionale, qui appunto io non posso che farlo semplicemente per striglia e alla sua riflessione sullo gius publicum europeum, ma anche come esercizio della violenza intesa come coercizio interna, quindi Max Weber, il discorso sull'ordine interno, l'ordine pubblico e il ruolo della polizia. In tutto questo io credo noi possiamo identificare in quella che è la natura fondamentalmente albigua del rapporto tra potere e violenza, perché che il potere in questa logica può limitare e contenere la violenza e anzi, con il discorso sullo Stato questo è uno degli obiettivi, ma dall'altra parte in realtà il potere può anche organizzare e intensificare l'uso della violenza, ricorrere alla violenza per rafforzarsi, quindi è un rapporto essenzialmente albigo. Quindi il potere può neutralizzare e disciplinare dalla violenza, come questa tradizione da Hobbs-Financement si propone, ma in realtà può anche avvalere come uno strumento specifico di dominio. Quindi nello stesso momento noi possiamo considerare la violenza come rivelatrice sia della forza che della debolezza del potere, questo a secondo dei contesti in cui noi lo andiamo a osservare e dei contesti in cui la violenza si intende a manifestare. Quindi nella violenza noi abbiamo la massima concentrazione del potere, ma abbiamo nello stesso momento l'indice della sua fragilità. Quindi violenza e vulnerabilità sono due aspetti che sono sempre strettamente impreccianti e connessi tra di loro, inestricabili. In fondo la questione della dittatura, anche la questione del fascismo dal Novecento, in modo che in tutti i regimi autoritari e evitatoriali nel corso del XX secolo è completamente riconducibile a questo, cioè è l'espressione distillata di questo intreccio tra i due elementi di violenza e vulnerabilità, dove, si potrebbe dire in maniera sintetica, un potere senza limiti tende ad agire tendenzialmente senza limiti. Cosa che è ovviamente detta che lì sono una malattia, ma tale non è. Altra riflessione intorno alla natura del rapporto tra potere e violenza è quella di Ann Arendt, naturalmente. Ann Arendt che lamentava e ci ricordava che questi due concetti non possono essere usati come coincidenti. Potere e violenza sono strettamente negati tra di loro, ma non sono coincidenti che richiamare l'uno non significa necessariamente richiamare l'altro. E secondo Ann Arendt, anche qui mi permetto e mi scuserete, vi leggo quattro righe, la violenza è per natura strumentale. Come tutti i mezzi ha sempre bisogno di una guida di una giustificazione per giungere al fine di ciò che persegue, di ciò che ha bisogno di una giustificazione da parte di qualcun altro non può essere la sostanza di niente. Mentre invece, se continuava Ann Arendt, il potere non ha bisogno di giustificazione, essendo inerente all'esistenza stessa delle comunità politiche. Quello che invece gli serve è la legittimazione. Il potere emerge ogni volta che la gente si unisce e agisce di concerto, ma deriva la sua legittimazione è la fatta iniziale ritrovarsi assieme piuttosto che una qualche azione che ne può in seguito derivare. La violenza può essere giustificabile, ma non sarà mai legittimata. Potere e violenza sono opposti, dove l'una governa in modo assoluto, l'altra è assente. La violenza compare, che concludeva Ann Arendt, dove il potere è scosso, ma lasciata a se stessa finisce per far scomperire il potere. Quindi, seguendo il filo di questo ragionamento possiamo dire, il mio punto di partenza di questo ragionamento, che la violenza non può essere un problema assunto con un problema di se stesso. Non può essere assunto con un problema di se stesso, almeno per gli storici, perché fa il nostro mestiere. Al mio modo di vedere, non è in se stesso una questione storica. Semmai, ed è quello di cui io sono convinto, il problema degli storici è quello di assumere, degli storici e in generale di chi vuol guardare al passato con uno sguardo, appunto, che coglie la storicità delle situazioni e che non pensa che la violenza sia tutto uguale indipendentemente dai contesti in cui si manifesta. Semmai la questione, abbiamo modo di vedere, è quella di assumere il rapporto tra potere e violenza come un indice del mutamento, che è un mutamento politico, di sistema, è un mutamento dell'ordine sociale. E quindi, in questo senso, è anche il ruolo di elaborazione di culture e pratiche della violenza come quelle che vi sono state raccontate, che sono anche quelle che poi vengono concretamente racconti disegnate e descritte in questo Atlante. Allora, cosa significa tutto questo? Significa che noi assumiamo il fenomeno della violenza e lo andiamo a ricollocare nei contesti in cui si esplica. Quindi, la guerra, la rivoluzione della guerra civile, al limite, se volete, possiamo arrivare fino al golpe, al corpo di Stato. Tra l'altro, ho sapevoli del fatto che nella concretezza della storia e degli eventi storici, raramente queste tipologie sono distinte, spesso si sovrappongono. Guerra, la civile, la rivoluzione, i colpi di Stato non sono in realtà elementi sempre strettamente e rigidamente separati. Da storico potrei anche dire che forse vale la pena di notare che se è vero che nella storia non sono mancate delle lotte di fazione per il potere, dobbiamo essere consapevoli che solo con l'età contemporanea, quindi l'ingresso nella contemporaneità, che il fenomeno ha assunto un significato completamente nuovo. Quando cioè alla fine del XVIII secolo nel cuore dello Stato, stiamo parlando dello Stato assoluto della monarchia, viene ad assumere un nuovo profilo, una nuova classe sociale che è la borghesia e viene a definirsi in quel contesto la sfera di quella che noi da allora in poi tendiamo a chiamare e a definire come la categoria della società civile. È allora che si pongono le basi di quella frizione, di quell'elemento di stridio, di conflitto, di potenziale antagonismo tra Stato e società civile, cioè di un confronto che viene promosso da delle minoranze attive che sono mobilitate per il progresso umano, dove allora lo Stato viene rappresentato come il luogo della conservazione, del potere, mentre la società civile appare e viene proposto, non vi sto dicendo che le cose stiano così, ma così vengono raccontate e rappresentate, come l'ambito del miglioramento della condizione umana e della condizione sociale. La rivoluzione francese, da qui sgorga la rivoluzione francese, da qui sgorga più in generale la rivoluzione come un processo di adeguamento dello Stato all'esigenza della società civile. Quindi potremmo altrimenti dire che la rivoluzione è la ribellione della società civile, il nome dei valori del progresso, contro lo Stato che è considerato appunto il luogo dell'oppressione e della conservazione. Ma, da questo punto di vista, la rivoluzione, come anche la guerra civile, e quindi anche qui, se anche la regola lontana, in realtà stiamo parlando di cose che in realtà sono la cornice dei discorsi che faremo sul Novecento, anche la guerra civile come la rivoluzione è in fondo che cosa? se non una lotta per l'appropriazione del potere che non è regolata dal diritto. Se quando parliamo di guerra civile noi intendiamo evidenziare il riposo alla violenza, viceversa quando ci riferiamo alla rivoluzione, pensiamo alla violenza come alla necessità transitoria, in realtà, o meglio, nella realtà storica, queste due parti non sono in realtà separate. E questi due volti di evitamento sono strettamente legati tra di loro. Quindi, rivoluzione e guerra civile non si lasciano, non si lasceranno mai nella storia, e a maggior ragione della storia contemporanea, separare facilmente la rivoluzione intesa come ciclo rivoluzionale, è un fenomeno sociale e strutturale di lunghissima durata, che non si ferma solo al momento di emersione della rivoluzione, nel caso specifico al momento, ad esempio, in cui in Francia decodiamo il re. Ma, appunto, è parte di un ciclo di trasformazione più lungo, così come, andiamo a considerare, che all'interno di quel ciclo è contenuta in qualche modo la guerra civile, in questo senso intesa come una violenta rottura di equilibrio politico che accade nel tempo breve, lungo, ed è in quel momento che la violenza si fa più estrema, quindi la fase della guerra civile, ad esempio, della rivoluzione francese, quando appunto, quando la guerra, quando la violenza diventa radicale ed è volta alla distruzione dell'avversario. quindi, se noi consideriamo questi intrecci storici, violenza e potere, rivoluzione e guerra civile, possiamo forse arrivare a formulare una prima ipotesi, una prima, come dire, lettura interpretativa di carattere generale. Cioè, io credo che su questa base, entrando nel processo storico, noi possiamo definire due fasi storiche distinte, due fasi di radicale mutamento politico-sociale, dove guerra, guerra civile, il ciclo rivoluzionario, sono strettamente intrecciati tra di loro e difficilmente districabili, e dove la guerra all'interno dello Stato-Nazione e la guerra all'esterno, cioè la guerra fra Stati-Nazione, sono strettamente intrecciati, due fasi che conducono a una nuova organizzazione delle politiche, due fasi in cui la violenza va assunta come una spia, un indizio della radicalità dello scontro, della intensità dei processi di trasformazione e di mutamento sociale. E queste due fasi storiche, come direte, quali sono? Beh, credo che arrivati a questo punto siano abbastanza chiari. Una è la fase che io proloccherei per capirci come tutta la priorizzazione è indicativa e non rigida, tra il 1789 e il 1815, quindi la fase della rivoluzione francese delle guerre napoleoniche, quindi anche delle grandi guerre di Napoleone, e l'altra è la fase 1914-1945. Allora direi che la prima di queste due fasi noi potremmo con una qualche forzatura definirla la prima guerra civile europea, riprendendo e prendendo a prestito una definizione del periodo 1445 che ormai si è andata abbastanza consolidando e precipitando negli studi come una guerra civile europea. Se così è, io considererei e proporrei l'89-15 come la prima guerra civile europea. Una guerra civile nel senso che la rivoluzione dell'89 si trasforma in un conflitto contro il potere aristocratico e non solo contro il potere aristocratico francese, ma contro il potere aristocratico un elemento trasnazionale, perché la fraternità e l'universalità del diritto del cittadino in realtà portano a una guerra che attraverserà ogni Stato, proprio la dimensione universale di quei valori, in cui quindi i cittadini di ogni singolo Stato si comportano e devono cooperare in realtà come cittadini di un unico Stato, come se così fossero. Quindi l'oppressore che opera in una nazione, in quanto tale è l'unico di tutti coloro che vi si occupano, non solo di quelli che vivono in quella nazione, quindi sia dentro che fuori per la nazione. la polarizzazione tra rivoluzione e contro rivoluzione e quindi intreccia strettamente la guerra all'interno dei confini nazionali con la guerra al di fuori dei confini nazionali. Intreccio si fa stretto, non a caso nel 1791 un signore che si chiamava Robespierre come la definisce la guerre des ennemies della rivoluzione francese contro la rivoluzione francese, cioè la guerra di tutti i nemici della rivoluzione francese contro la rivoluzione francese. Allora potremmo dire che da qui discende che cosa? Che il mondo viene diviso tra amico e nemico della libertà, si crea una linea di fruttura e quindi la novità è introdotta dalla rivoluzione francese in uno scenario politico europeo che cos'è se non l'internazionalizzazione della guerra civile, ed è un processo che avrà coronamento nel XX secolo, in uno dei primi discorsi di Gerdas dopo l'assunzione del potere nazismo nel 33, Gerdas dirà cancelleremo la rivoluzione francese dalla storia. A questo si riferiva, che stava tutta nella cornice di questa guerra civile. Allora, a questo fine si produce una mobilitazione integrale della società, non totale, io direi proprio integrale, il termine integrale rende meglio, è un termine che viene usato soprattutto dai militari e dagli storici militari, ma rende meglio perché integrale in questo caso significa, come dire, una società che è mobilitata appunto nel suo insieme, nella sua totalità, nella sua integralità, in ogni sfera in cui ognuno ha una funzione e un compito preciso. il cittadino prende le armi per la difesa della nazione perché la nazione è lo spazio politico di volimento e rifluzione del diritto e quindi, siccome ogni diritto corrisponde a un dovere di qualcuno di garantire quel diritto, il cittadino facendo questo assolto nello stesso momento ha un dovere ma tutela il proprio diritto e quanto cittadino di quello spazio politico, non a caso la rivoluzione francese introduce un esercito di Levan, un esercito, la Leve Ammas che cos'è se non un esercito di cittadini che combattono per la nazione ma combattono per se stessi anche, quindi un dovere che è l'altra faccia del diritto e proporrà la rivoluzionaria francese, la famosa guerra au trans che è quella dei rivoluzionari della guerra au trans che, appunto, come ci avrebbe poi ricordato Clausewitz, è in qualche maniera una guerra che tende all'assoluto, che tende cioè all'unica vera regola della guerra che è quella appunto di tendere alla sua assolutezza, cioè di tendere all'annichilimento della ristruzione della Borsalia. Tant'è che oggi è sempre più solidata l'immagine da parte degli storici che studiano le guerre napoleoniche di quelle guerre come la prima guerra totale della storia. Se vogliamo giocare coi temi su una città e mezzo, siamo tutti relativamente stanchi, consentiamocelo, potremmo dire che in fondo le guerre del ciclo rivoluzionario francese su cui si innestano le guerre napoleoniche a buona parte cosa sono, se non la prima vera guerra mondiale? Allora potremmo dire che in fondo la grande guerra diventa la seconda e quella che la chiamiamo la seconda guerra mondiale diventa la terza. Scusate, gioco un po' con i termini, ma per capirci anche di qualcosa stiamo discutendo. Cioè, appunto, una guerra assoluta che è fatta, per dirla in maniera progettiziana, che è fatta per la ristruzione dell'aggressare. Ed è qui che passiamo dalle guerre delle monarchie alle guerre delle nazioni in armi. Passiamo al mito e alla realtà del popolo in armi, che è uno dei grandi spettri che agirà durante il novecento, durante l'ottocento fino alla prima età del novecento. Il popolo in armi, in fondo, è anche la resistenza. Cioè, il grande problema che si porrà e che sarà la base da questo momento in avanti del timore delle insorgenze, così come gli spagnoli che erano insorti contro le deputizioni napoleoniche, che non a caso per la prima volta utilizzano il termine di guerriglia, cioè di piccola guerra, quella che prima chiameremo guerriglia, in fondo la resistenza che altro ha, se non una guerra di guerriglia, che è il grande spettro non solo delle monarchie, ma che sarà il grande spettro degli stati e degli eserciti regolari perché naturalmente le guerriglie che cosa diventeranno? Diventeranno la difesa del territorio, come nel caso spagnolo, non a caso più per Schmidt, parlando del caso spagnolo e parlando del partigiano, nella sua teoria del partigiano agli anni sessanta, formulerà questa definizione efficacissima del partigiano come sentinello della terra, ha evidenziato il carattere tettonico della figura del partigiano, ma nello stesso momento nel novecento l'intreccio delle guerriglie con la politica e con l'ideologia fa sì che le guerriglie diventino una minaccia di sovversione dello Stato, di sovversione dell'ordine esistente e quindi una minaccia assoluta e di qui appunto anche l'intensità della violenza e della guerra civile. Allora, se consideriamo questo periodo concluso nel 1815, questa prima guerra civile europea chiusa nel 1815 con congresso di Vienna dopo la sconfitta di Napoleone, come è noto si tende a dire, tutti noi insegniamo che nel 1815-1114 ci sono cento anni di relativa pace, la pace britannica, Polani nella grande trasformazione ha detto che è un saggio efficacissimo che era estremamente interessante questo argomento, stiamo attenti però a considerare che i cento anni che vanno dal 1815-1114 non sono anni di immobilismo in cui le cose in ordine a questo tipo di fenomeni esistono fermi, non solo perché l'Ottocento è il secolo di un nazionalismo che è sempre più innervato di sangue, morte, di terra, identità e del nazionalismo esiste, si costruisce tutto un immaginario, diciamo un immaginario palco per molti aspetti, basti pensare a ciò che l'Ascedito ha studiato per anni il nostro collega Alberto Magadanti capisa sul nazionalismo, sul linguaggio, sulla cultura e le immagini simboliche del nazionalismo, in cui il discorso nazionalista diventa il discorso di chi si riferisce a una nazione uniforme e omogenea e chi contesta il discorso nazionalista è un traditore e si mette al di fuori dalla comunità e diventa un nemico assoluto. Ma il nazionalismo dell'Ottocento è anche un'iniziazione alla politica, è anche un fondamento di una rigoglione giovanile generazionale nel corso del XIX secolo in cui alla nazione sia disposti a sacrificare tutto anche al massimo sacrificio che è quello della vita. Cioè si forma un pensiero unico della nazione e della comunità dove appunto violenza e sacrificio, guerra e morte, terra e sangue tendono progressivamente a confluire e preparano quei materiali culturali dell'immaginario che verranno rielaborati dalla destra europea, in particolare ovviamente dai fascismi nella prima metà del XIX secolo. E questo è un primo fattore che ci dice che quel secolo sarà anche un secolo di pace ma non è un secolo immobile. Secondo elemento, un secolo di pace, è vero? E' vero e non è vero. Nell'Ottocento non ci sono le grandi guerre del ciclo napoleonico, anzi, il problema è che sia talmente forte la memoria di ciò che sono state le guerre napoleoniche che appunto il Congresso di Vienna ha come obiettivo, adesso mi ricordo che non posso stare a chiedere l'insegnante ma non mi vergognerei a farlo, lo sapete meglio di me, sono cose che si insegnano ai nostri studenti ma in cui l'obiettivo ovviamente è quello in una qualche maniera di tenere sotto controllo il continente europeo, di evitare che si possa ritornare al ricorso alla guerra. E tuttavia le tante piccole guerre che attraversano l'Ottocento e su cui non ci possiamo soffermare, la guerra di Crimea, le guerre risorgimentali italiane, la guerra franco-prussiana, fino alla guerra anglo-boera, la guerra russo-giapponese del 1905, sono sì piccole guerre, aggiungerei anche la guerra civile americana ovviamente in questo discorso, ma in realtà se andiamo a studiare sempre di più, oggi si studiano in questa chiave, in questa prospettiva, sono guerre in cui nel loro essere relativamente limitati, cioè nel non diventare guerre mondiali, nel non migliorare anni e anni, hanno l'intensità della violenza che non ha precedente, che si innesta sulla violenza della guerra napoleonica e la moltiplica per 10% per 1000. E perché? Beh, intanto per l'elemento politico-culturale e ideologico che è quello legato alla messa nazionalistica, ma anche perché, ovviamente, le tecnologie e l'applicazione del potenziale industriale agli armamenti cambiano radicalmente il modo di intendere. Cioè, rende possibile un potenziale distruttivo più alto che applicato a un diverso modo di intendere la guerra che dà come cifra una maggiore intensità della violenza. Esempi sono tanti, non entro nel dettaglio. Pensando all'uso delle artiglierie che sono fatte nella guerra franco-pussiana, ma anche nella guerra di Crimea, che informa l'anticipazione di ciò che accade nella prima guerra mondiale, con i grandi canoneggiamenti, le trincee, basta leggersi, Sebastocco di Nostolietti, quindi Nostolietti, per avere un'idea di che cos'è quel tipo di guerra. Quei racconti, se voi riuscite a astrarre un momento e uscire al di fuori del protesto, dalla criminalità, avete il racconto della guerra mondiale. Le artiglierie della guerra franco-pussiana, con i tedeschi che muovono grazie alle loro ferrovie, non solo le eserciti, ma muovono appunto le artiglierie e decidono di bombardare indiscriminatamente Parigi e di bombardare anche le popolazioni civili. La invenzione della prima intagliatrice è realmente automatica nel 1885, la massima che spara 600 colpi al minuto e considerate che nel 1870 le armi che erano in esposizione sparavano 4-5 colpi al massimo. Il fatto che il confine tra la popolazione civile e i combattenti, cioè coloro che restano la divisa, viene progressivamente confuso, sovrapposto. La guerra civile americana è una guerra civile in cui le manifestazioni di violenza, in cui ci parlava già lui che si manifestano per molti versi nello stesso modo l'infiltrazione dietro le due nemiche, l'uccisione della popolazione civile, per creare incertezza e paura e via rispondendo. Tutto questo per dire cosa? E non cito le guerre coloniali, per dire che c'è un'estensione, una radicalizzazione della violenza di guerra che in realtà è l'annuncio di ciò che vedremo alla Novecento e che verrà consegnato dalle due guerre mondiali. è l'annuncio che lo Stato nazionale dell'epoca capitalistica e industriale servì a essere il protagonista, l'attore principale della guerra, lasciando anche intravedere che le nazioni in un eventuale confronto bellico avrebbero messo in gioco tutto il loro potenziale, di qui la mobilizzazione integrale, di qui quella che appunto normalmente si chiama, come adesso tanti tipi di questo posto, guerra totale e o appunto guerra integrale. Chi è che lo coglie lucidamente? Il 1889 è un signore che si chiama Federico Engles, che cosa scrive? Questa guerra nella quale 15 o 20 milioni di uomini armati si scannerebbero e devasterebbero all'Europa come non fu mai devastata. Questa guerra o produrrebbe il trionfo immediato del socialismo oppure sconvolgerebbe talmente l'anticordine delle cose e si lascerebbe dietro da quel tutto un tale cumulo di ruine che la vecchia società capitalistica diventerebbe più impossibile che mai. E parla di una guerra in cui ci saranno da 10 a 15 milioni di combattenti, una devastazione inaudita solo per nutrirli, una soppressione forzata e universale del nostro movimento, una recrudescenza dello sciominismo in tutti i paesi e alla fine un evitamento 10 volte peggiore che dopo il 1815, un periodo di reazione basato sull'esaurimento di tutti i popoli dissanguati. E tutto questo contro la piccolissima possibilità che da questa guerra canita scaturiscono la rivoluzione. Questo mi fa orrore. Lo scriveva Engels nel 1889 e esattamente la descrizione di ciò che accade tra il 14 e il 45. E non è che Engels faceva il mago come secondo gli stieghi, non aveva la palla di cristallo, semplicemente osservava le novità che si stavano stendendo davanti a lui, che si erano stese nel corso dell'800. ed Engels, lo ricordo, e cosa nota, era stato un attentissimo osservatore della guerra fracopussiana per cui scriveva per la Paul Morgaset, il giornale inglese, i risoponti della guerra e le sue analisi della guerra. Se vi leggete anche l'antiduring di Engels troverete una riflessione sulla guerra e sulla violenza estremamente sofisticata. E siamo a cosa? Siamo alla seconda guerra civile europea, cioè siamo a 1445. Un nuovo ciclo dove la catena di violenti tende a condensare un mutamento epocale. Crisi, conflitti sociali, guerre, cicli rivoluzionari e guerre civili, guerre interne e guerre esterne. Cioè un ciclo dove si assommano dei processi di mutamento sociale estremamente complessi. Un ciclo che conduce alla crisi profonda del liberalismo a cui corrisponde quello scontro tra fascismo e socialismo comunismo che si manifesta a partire appunto dal 14-17 in avanti e potremmo dire più in generale che produce quella bioretica antagonistica tra fascismo e antifascismo che potremmo persino dire tra rivoluzione e contro rivoluzione che in questo momento verrà interpretata dalle destre europee da una destra europea in cui il nazionalismo è alla fine del 1900 fortemente antidemocratico, fortemente antisocialista ed è riunito intorno all'invenzione di una unità che spegne tutti coloro che non vi si riconoscono in primis chi se non i rossi, cioè gli internazionalisti e questo ciclo produce che cosa? cioè questo scontro produce che cosa? produce tre cicli di guerre civili il ciclo 17-23 che è il ciclo rivoluzionario il piano russo-europeo che si muove dalla rivoluzione bolshevica e a tutto ciò che accade nell'immediato prima o dopo guerra il 1936-39 cioè la guerra civile spagnola che è più generale conflitto internazionale tra fascismo e antifascismo perché non è solo un conflitto come sappiamo bene che si muove dentro i confini spagnoli e il 1939-1945 ma io direi più correttamente il 1937-1949 partendo da ciò che si muove in Asia orientale dall'occupazione cinese del Giappone e dalle violenze radicali e estreme che vengono consumate sul fronte orientale fino al 1949 anno in cui finirà la guerra civile in Grecia a ricomprendere appunto il ciclo generale in cui noi assistiamo a scenari di guerra civile che si realizzano nel contesto della guerra totale e della guerra integrale e anche se volete in quel periodo che non è più di guerra ma non è neanche di pace io direi un periodo di non pace o meglio forse ancora di non guerra che sta tra la fine della guerra nel 1945 e l'inizio della guerra fredda nella sua proprietà degli anni 40 come nella prima guerra civile europea anche in questa seconda tra il 1937 e il 39 il movimento rivoluzionario tende a internazionalizzare la guerra civile e spostarla nel mondo intero quindi la rivoluzione moschevica infatti non ha nemici nazionali la rivoluzione moschevica ha solo nemici di classe e la classe in questo caso è transnazionale ovviamente nel 1917 l'Einem che cosa fa? trasforma la guerra imperialista in guerra civile la rivoluzione moschevica nella protesta della prima guerra mondiale in fondo potremmo anche ricordarla in questo modo e la nascita nel 1919 dell'internazionale comunista in fondo va in questa direzione nello stesso momento noi abbiamo il proporsi in questa fase del 1445 del fascismo come fenomeno europeo il fascismo non è solo il fascismo italiano lo sapete bene il fascismo è il fascismo storico l'esperienza storica dell'Italia ma è un fenomeno transnazionale e se noi questo anche se è stato in parte rimosso dalla storia e dalla memoria europea se nel corso della seconda guerra mondiale la verma, l'esercito del terzo rai, l'alleato dei fascisti italiani occupa praticamente, fa la prima unificazione europea se anche qui me la consentite in mezzo a battuta perché in fondo l'Italia che fa la prima unificazione europea occupando dal mare del nord al mare mediterraneo dalla manica le grandi pianure russe anche se per un periodo breve tutto questo si rende possibile perché? si rende possibile perché ovunque arriva da Sraec trova collaborazione in tutti i paesi europei dove è più marcata dove lo è meno dove certo trova anche resistenza altrettanto diffusa alla sua presenza ma ovunque ricordiamo lo trova collaborazione e è collaborazione non collaborazionismo non sto parlando dei fascisti locali che è con il filo nazistico che incalzano le divise delle SS e che ovunque danno vita delle divisioni combattenti quelle che combatteranno fino all'ultimo giorno davanti a Bucca d'Italia dove ci sono i francesi i belgi gli spagnoli molto più numerosi che i tedeschi davanti a Bucca d'Italia perché i tedeschi sono già stati sterminati dalla lanzata dell'armata rossa che cos'è che li fa combattere fino all'ultimo minuto è esattamente questa mobilitazione ideologica che è estremamente forte e appunto se il nazismo governa su tutta Europa in quella fase breve ma estremamente intensa ecco comunque oltre a questi trova la collaborazione delle componenti moderate filofasciste che vanno oltre le specificità nazionali in questo senso il fascismo in modo da vedere è rassunta sì con una risposta alla crisi del vecchio ordine con una crisi del sistema sociale una crisi delle classi dirigenti che si realizza attraverso la mobilitazione delle masse o anche in termini di vera e propria militarizzazione o un controllo sociale o anche di un ministro per queste due soluzioni ed è qui che di nuovo troviamo il problema della violenza il problema della violenza che nel prima dopoguerra ed è la storia del fascismo italiano è utilizzata dalla destra politica e quindi del fascismo come una tecnica di conquista del potere ed è questa per spiazza poi potremmo aprire una parete di non so forse sì o se no perché a quella violenza non si trova una risposta altrettanto violenta che è un problema storico sottovalutato ma è un modo di vedere di grande interesse mi limito a dirlo tra parentesi e chiudo subito la parentesi quindi la violenza utilizzata dal fascismo come tecnica di conquista del potere che poi è trasferita nella gestione e nell'organizzazione del potere quindi contro il nemico interno tanto nel fascismo italiano che nella giornale nazista e poi nella guerra quindi contro il nemico esterno e ovviamente bene quindi spero che adesso si capisca perché anche la presa lontana stiamo arrivando al nostro ragionamento nella destra fascista la violenza è assolutamente centrale ed è assolutamente centrale perché il prodotto è il primo luogo dei processi di costruzione e iniezione del nemico il nemico interno per la presione della comunità nazionale e del nemico esterno tanto più intensa la violenza della destra quanto più questa violenza è strettamente connessa alla presa del potere e poi al controllo del potere quindi è una violenza che è strumentalmente necessaria e che a questo fine viene elaborata pensata razionalizzata diventa un elemento identitario del miliziale fascista la violenza non è qualche cosa di esondativo è un elemento centrale della definizione del militante fascista che attraverso la violenza si rafforza si valorizza si seleziona si realizza il mito della violenza del fascismo dei mai morti di tutti gli slogan che stanno alla base del fascismo è in parte abbia assumibile in modo di vedere questa è quella violenza secca di cui parla in un piccolo saggio in degli elementi di genialità seppure se non può discutere il valore è Jonathan Lintel o Hitler secondo l'autore delle benevole il romanzo prodotto anche in italiano ottimo romanzo che per la prima volta in fondo alla manzesca assume il punto di vista del carnificio era cambiando la storia dell'ufficiale dell'SS ma Hitler questo è meno noto ma Enaudi è stato tempestivo nel tradurlo subito dopo l'uscita del benevole quando scrive secco e lumido piccolo libricino dedicato alle onde grevi e ai nazisti belgi parla esattamente di quello ci parla di una violenza secca di una violenza che parte del modo fascista di produrre la realtà cioè fascista che si costruisce e si rappresenta attraverso la disciplina lo stramento il coraggio lo sprezzo del pericolo forma a dire che il fascista struttura il mondo uccidente struttura il mondo ricorrendo sistematicamente alla violenza questo è un tratto distintivo del periodo del periodo 1445 è un tratto distintivo che culmina nel secondo conflitto mondiale direi è un tratto che si invera nella guerra e nella violenza di guerra e questa è la ragione per cui io credo possiamo considerare di tenere che la guerra quella che noi chiamiamo siccome la guerra mondiale è la somma di tante guerre diverse o meglio è la somma di tante diverse forme di guerra che sono elaborate nell'esperienza della cultura occidentale ed è anche per questo che quella guerra noi la consideriamo ancora oggi il momento apice della violenza rappresentiamo spesso il ventesimo secolo come un secolo più sanguinario degli altri e gli studi dicono che tanto vero non è però perchè ce la rappresentiamo così proprio io credo perchè in questa violenza che si manifesta in corso del secondo partito mondiale e nel contesto più ampio della seconda guerra civile europea noi mescoliamo insieme tre cose diverse in questo senso io credo che la guerra fascista cioè la guerra che viene condotta dai fascisti anche il nazismo in questo caso non inventa assolutamente niente di nuovo ma l'elemento caratteristico della guerra che viene condotta dai fascisti e dai nazisti è il fatto che quella guerra viene sintetizzato e miscelato tutte quelle che sono le forme che erano state assunte dalla guerra in epoca contemporanea questo è il vero trattamento nessuna attenzione niente di nuovo neppure la violenza ma la miscela e l'intensità della violenza prodotta dal fatto che tutto questo viene messo insieme perché nella guerra nazista noi assistiamo ovviamente alla guerra regolare cioè la guerra degli eserciti eserciti contraposti ma a una guerra regolare che porta in odio profondo la guerra regolare e la guerra di guerriglia e nella repressione della resistenza e delle resistenze che si manifestano in tutta Europa da est a ovest da nord da sud la violenza intensa a livello repressivo perché? perché viene considerata la peggiore delle guerre dal punto di vista dell'onore militare perché è una guerra sporca è una guerra irregolare è una guerra dell'inganno dei mordi fuggi secondo una lunghissima tradizione militare tussiana che viene alla clausula inizia che attraversa l'800 ma è anche la guerra in cui il popolo prende in armi il popolo novecentesco è il popolo che fa la rivoluzione la guerriglia è un tratto sovversivo per cui ad esempio i partigiani per i tedeschi e per i fascisti sono sempre dei rossi sono sempre dei comunisti anche quando non lo sono e questo permette ad esempio di dire comunisti e battagliani come se le due cose fossero così tranquille pacifiche non stanno insieme ma appunto e questo ci introduce all'altra forma di guerra tra parte della guerra nazista ovviamente qui c'è una guerra ideologica una guerra civile perché è una guerra fortemente marcata dall'ideologia di cui questi eserciti sono portatori ed è una guerra fortemente connotata nel senso di guerra civile nel caso italiano soprattutto quegli scenari di guerra che si manifesteranno nell'autunno 44 fino alla fine della guerra che è il momento più dello scontro tra fascisti e antifascisti nel nostro paese e che anche la fase meno studiata e su cui non vi disponiamo di una ricerca e non c'è fra l'altro per non spiegare che questo periodo trovi protezione da parte degli studiosi ma altra guerra che sta dentro una guerra fascista una guerra razziale che è una guerra che viene condotta in parte contro gli esseri inferiori in tutta la campagna est dei tedeschi o italiani nei Balcani o italiani in Africa è condotta contro le popolazioni di più inferiori slavi appunto popolazioni indigene in Africa e il discorso poi sulla distruzione degli ebrei prenderanno in qualche maniera corpo all'interno di questa guerra che è una guerra razziale eh ancora l'ultimo lei oltre ad essere una guerra regolata una guerra ideologica una guerra civile una guerra razziale è anche una guerra coloniale perché i sistemi di occupazione che sono messi in atto da fascisti e antivisti in fondo applicano rielaborano delle tecniche di occupazione a uno sguardo sulle società che vengono occupate che producono forme di occupazione e di dominio che hanno un rapporto diretto con l'esperienza coloniale ricordiamo che i tedeschi in Italia stesso avevano studiato con bravissimo interesse e attenzione il metodo britannico di costruzione dell'impero e come i tedeschi avevano governato l'impero e nei processi che ricordava anche Gianluzza e di cui credo abbiate in parte parlato anche in questo corso i difensori gli avvocati tedeschi che infeggono l'impero di guerra tedeschi diranno sempre ai porti noi abbiamo fatto quello che avete fatto prima perché pigliarsela tanto adesso scusate se la metto come si fosse una dettuta ma l'argomentazione era sostanzialmente questa e si riportava il catalogo dei comportamenti britannici in Sud Africa nella guerra contro l'Izulu nella repressione della guerra irlandese via dicendo come elemento che delegittimava le corti alleate a giudicare i tedeschi per il loro comportamento in guerra quindi la vera originalità di questo secondo la guerra civile europea nel suo elemento bellico è come a modo di vedere questo non la guerra in se stessa non la guerra nazista intesa come nazisti che si diventano una forma diversa di guerra ma fascisti e nazisti mettono insieme fanno precipitare nella guerra che conducono tutta l'esperienza europea occidentale che segue dalla direzione francese fino all'ora e applicano quindi un moltiplicatore di intensità della violenza non inventando forma nuova di violenza ma semplicemente mettendo le precedenti aspetti tutto il cielo facendo una grande centrifuga se mi passate il tema delle esperienze delle culture militari e delle culture della violenza che erano patrimonio dell'esperienza europea che guardate bene io credo questo tra l'altro ci dice che noi parliamo di cose di grandissima qualità i conti fino a fondo con quella tradizione con quelle culture di violenza l'Europa non li ha fatti poi qualcuno li ha fatti ancora meno sicuramente gli italiani rispetto ad altri nel contesto europeo ma noi parliamo di pratiche di esperienze che però costantemente tendono a riaffiorare e tendono a riproporre un'usura di attualità tant'è che le violenze contro le popolazioni civili nelle guerre dagli anni 90 e poi sono l'elemento chiave nel discorso sulle guerre o potremmo dire sull'operazione di polizia internazionale dove i soldati erano civili chiusa parentesi mi invito a chiudere dicendo che cosa quindi che la violenza fascista intesa come normalizzazione interna quindi come eliminazione dell'unico interno unico politico e raziale la violenza intesa come il disegno raziale dell'Europa la violenza intesa come forma di dominio coloniale e di sfruttamento nel contesto europeo come forma di controllo dello spazio europeo contro le resistenze è una violenza che si rispiega a pieno in ogni sua forma grazie alla cornice della guerra totale o io credo sia più corretto a chiamarla della guerra integrale che si manifesta tra le due guerre ordinarie e che questo sia il moltiplicatore della violenza senza il minimo dubbio e tuttavia è che su questo vado a chiudere è il manifestarsi della guerra partigiana intesa come guerra irregolare e anche guerra subversiva che rende particolarmente sistematico particolarmente intenso e riporso la violenza in primo luogo contro le popolazioni civili ma non solo violenza che nasce che sgorga da un'idea repressiva perché l'impossibilità di distinguere i partigiani dai civili comporta sostanzialmente che le popolazioni dei paesi occupati dove si manifesta l'esistenza siano di per se stesse sospette citava Albert Kessler prima Gianluca Albert Kessler viene processato nel 1947 a Venezia una forte militare alleata e a un certo punto l'accusatore il procuratore militare che era un ufficiale britannico gli chiede ma voi per le zone partigiane che cosa intendevano? gli dici le zone partigiane erano tutte le zone dove noi intenevamo cioè o dove c'era resistenza e si era manifestato o dove noi intenevamo che si potesse manifestare una resistenza al nostro passaggio quelle zone noi davamo per scontato che tutta la popolazione fosse partigiana quindi non si andava a distinguere perché è impossibile distinguere nella guerra delle Donate o comunque molto difficile e questo è un problema peraltro anche delle guerriglie dei movimenti di liberazione di tutta la storia del Novecento che fino ad oggi sostanzialmente anche se oggi spesso sono chiamati terroristi invece che partigiani questo significa che le popolazioni sono di per sé sospette non solo di collusione e di collateralismo per i partigiani ma di essere sostanzialmente composte appunto di partigiani e questo in una qualche maniera diventa un elemento che è legittima e rende possibile scatenare la violenza a questo si aggiunge appunto il fatto che ora il partigiano come dicevamo prima non è più una sentinella della terra cioè il difensore di uno spazio di relazione sociale di unita ma che dagli inizi del Novecento il partigiano che cos'è? è anche il protagonista attivo di un'offensiva che è volta a sovvertire l'ordine costituita dopo la riduzione la moscelica con l'emerge dello scontro radicale eletto che non lo scontro amico-amico tra appunto il socialismo e fascismo comunismo nazismo non si danno più mezza misura perché l'obiettivo viene considerato quello della sovversione all'ordine costituito o almeno così lo si percepisce non dico che sia necessariamente sempre così dico che il comunismo inizio del Novecento pone questo elemento guarda lo guarda in questa in questa prospettiva quindi quella che noi potremmo chiamare per parafrasare Schmidt la dimensione tellurica della resistenza cioè appunto il legame insolubile con un territorio anche molto ristretto con quello spazio fisico che nella distanza significa il rapporto con le vallate il rapporto e via discorrendo si somma nella prospettiva del massagratore nella prospettiva dell'occupante fascista dei territori in che cosa? si somma alla sfera immateriale dell'idea perché le guerrine a questo punto non solo difendono un territorio non solo sono l'equivalente degli assorbenti signori contro Napoleone sono anche coloro che sostengono il mutamento dei rapporti sociali politici e poi questi rapporti siano quelli del patriottismo dell'antifascismo del comunismo dell'anticolonialismo cioè nelle guerre della in questa fase del 1445 lo spazio fisico della lotta ma e lo spazio politico dell'insurrezione tendono a intrecciarsi e a legittimarsi ricevevolmente e questo cambia drasticamente l'orizzonte e questo vale come dire per il nemico reale che assume da questo punto di vista che cosa? assume il voto del nemico assoluto ed è questo che giustifica quella violenza di quell'Atlante è questo che giustifica la violenza sterminazionista e la distruzione di popolazioni e questo vale per molti aspetti da entrambe le parti quindi questo per dire che la guerra la guerra partigiana diventa a questo punto una questione eminentemente politica non è più solo una questione di per così dire di tattiche e strategie militari riconoscere un combattente irregolare che si solleva contro lo Stato sia che lo Stato sia la Repubblica Sociale Italiana sia che sia l'esercito dell'amministrazione dell'occupazione ma se volete anche i governi coloniali da 1945 dalla Cina all'Algeria da Cuba all'Ottmane ammettere cioè che sia possibile legittimare il popolo in armi significherebbe consentire la legalità dell'assolvazione rivoluzionale significherebbe in qualche maniera mettere in discussione lo Stato stesso guardate bene questo peraltro che consente agli stessi partigiani di definirsi eserciti i partigiani spesso e sicuramente nel caso della resistenza italiana ci si definisce esercito partigiano e si definisce così anche quando i numeri sembrerebbero contraddire l'impiego di questo termine ed è per questa stessa ragione che il diritto nel corso del Novecento appare totalmente capace di fornire una definizione giuridica adeguata della guarigia del partigiano se no in formula un po' astratte di valore vedete bene che non è un problema del 45 questo è un problema anche di oggi perché non esiste una definizione di che cosa sia un combattente irregolare eh e anche ai nostri tempi i magistrati litigano su che cosa è il diritto di resistenza che cosa è il terrorismo qual è la linea di confine eppure un giurista seduto a questo tavolo oggi ve la saprebbe spiegare in termini controvestibili perché la contraddizione è estremamente forte quindi regolare regolare legittimo si possono definire solo in relazione a dei soggetti che si riconoscono vicendevolmente perché se non c'è questo riconoscimento allora la legittimità viene viene meno eh ed è per questo motivo io credo che in epoca contemporanea ma anche in quei tempi in cui viviamo noi oggi di fronte alla guerriglia di fronte alle forne di resistenza la violenza di guerra ed alle popolazioni civili è storicamente che si è consentito dirlo se volete anche drammaticamente ineluttabile ed è la ragione per cui io credo che la regolazione di questa violenza sia stranamente difficile contraddittoria limitata quando non addirittura è possibile come anche gli ultimi anni tutti le guerre dagli anni 90 e poi hanno abbondantemente dimostrato in conclusione cosa direi direi che ciò che accade tra il 36 e il 45 in Europa quindi ma questo lo avete repito e quindi non ci vedo io ci sto su questo è il precipitato di un lunghissimo percorso storico che si avvia alla fine del settecento che noi non restituiremo nella sua intelligenza e nella sua conoscenza se non avessimo uno sguardo di prospettiva di questo periodo e oggi sarebbe particolarmente importante uscire da quella prospettiva di storie separate che sono le storie nazionali che è il fatto che lo storico che studia le guerre lo studia singolarmente e qui c'è lo storico della seconda guerra mondiale della guerra mondiale della guerra mondiale e noi perdiamo lo sguardo complessivo su questi fenomeni che in realtà nel modo di vedere sono legati da un filo rosso anzi un filo nero che le lega strettamente e che è l'unico però nella misura in cui noi riusciamo a riportarlo in superficie che ci permette di comprendere la complessità di questi fenomeni e ci permette di comprendere quali sono le radici profondissime della violenza che dovrebbero avere qualche strumento di difesa di relazione e dell'unico di estremità di questa violenza dalle nostre culture vi ringrazio grazie 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 grazie